accentualo di più come se dovessi fare un salto prova che così più è alto più ti diventa facile davanti però così lo fai tutto di mono è così lo fai tutto col mono prova a farlo tu tirati dietro la moto tocchi il davanti e poi fai come se fai un salto sulla moto come gli dicevo lui prima aiutala vedi che se ti manca la velocità non lo fai è perché non usi il peso se invece lo fai in velocità tocchi poi il mono lavora lui e salta fuori prova aiutarlo tocchi il davanti appena ma un pochino più veloce salta sulla moto cioè tiratelo dietro dov'è dov'è faglielo vedere a lui il peso guarda lui vedi quando lui che va su che la tira dietro non guardare il verso che fa ma guarda proprio il movimento che fa lui vedi che lui già cerca di farlo non lo fa bene ma lo fa comunque va bene tu già cerchi di fare il saltino fai il saltino adesso scava no come vedi che lui già tocca e poi la tira dietro un po' coordinato devi coordinare non è facile eh cioè ti rompi di più le balle a farlo così come lo facevi prima ci vuole il buschi a insegnare io non sono capace oh già già